Leggiamo un articolo che ci deve far riflettere dal titolo La periferia che fa scuola, su integrazione, scuola e città, scritto dal parroco della Basilica della Santissima Annunziata e pubblicato sul periodico Annunziando. Domani ascolteremo la voce e la riflessione di Don Maglio. Scrive Don Maglio Savarino Si fa gran uso oggi del termine periferia. Se lo riportiamo al nostro contesto cittadino potremmo avviare una riflessione che sento forte di condividere. Non possiamo oggi disattenere quanto il mondo ci suggerisce e quei segni che la realtà cittadina propone non possono passare inosservati. Il numero degli immigrati nella nostra cittadina sembra aver assunto numeri elevati ed eccessivi. Non è una novità se pensiamo che nella nostra società globalizzata questa nota caratteristica coinvolge ogni paese e ciascuna città moderna. Nel nostro centro storico la percentuale di famiglie IVI residenti ha raggiunto numeri veramente alti. Il fenomeno ha raggiunto picchi non indifferenti e tale situazione si ripercuote soprattutto sulla scuola che svolge o almeno dovrebbe svolgere un ruolo importante nell'accoglienza e nell'integrazione dei bambini. Non a caso accogliere significa assumere un atteggiamento di apertura nei confronti di una realtà diversa trovando un terreno comune nel quale poter crescere insieme attraverso uno scambio costruttivo. La scuola rimane sempre il luogo preferenziale dell'integrazione e rappresenta anche lo sguardo al futuro a volte poco presente tra gli adulti ma attuabile tra i piccoli e grandi allievi della vita. Nel plesso Luigi Enaudi, sito in piazza d'Unità d'Italia, appartenente all'istituto comprensivo Padre Pieda Pietralcina c'è un'alta concentrazione di alunni stranieri che supera di gran lunga il 30% previsto dal MIUR. Le ragioni di questa alta concentrazione in un unico plesso piuttosto che altrove sono da addebitare a più fattori. Uno dei più importanti è dato sicuramente dal fatto che il centro storico è ricco di vecchie abitazioni che sono state affittate dagli immigrati visto che i vecchi proprietari si sono trasferiti in un nuovo quartiere a nord del nostro oridente paesino. Questo esagerato surplus di iscrizioni causa nei genitori italiani la preoccupazione che la presenza eccessiva di stranieri nelle classi possa causare un ralentamento del programma e perciò iscrivono sovente i loro figli in altri istituti. Purtroppo è diffusa l'idea che la presenza di uomini stranieri è di ostacolo all'apprendimento perché di nazionalità italiana. Di conseguenza in una società alla ricerca della perfezione non si può che rincorrere il meglio per i propri figli. Questo ad un primo sguardo analitico potrebbe anche interessare poco se non fosse che volgendo lo stesso sguardo al futuro esso non risulta né confortante né incoraggiante. Ciò ha spaccato in due il paese rendendo la parte bassa di Ispica una zona ghetto rappresentata dalla scuola e dagli abitanti del vecchio quartiere ormai quasi totalmente abitato da extra comunitari. Tutto questo si ripercuote negativamente nella scuola che è al confine nella quale ci si ritrova con un'utenza quasi completamente straniera. Ciò crea sicuramente una situazione in cui si fatica ad attuare processi di integrazione portando ad un fenomeno di segregazione scolastica che potrebbe essere circoscritto solo se riuscissimo a creare un incontro o scambio tra le famiglie progettando interventi ad hoc per incrementare le competenze linguistiche favorendo in tal modo la comunicazione tra le diverse strutture presenti sul territorio. Ogni istituto scolastico deve essere messo nelle condizioni di poter offrire un'educazione mirata all'interculturalità e trasmettere agli studenti le basi per una convivenza civile e serena nel rispetto di tutti. La cura delle individualità di ciascuno, italiano e straniero, è il punto di partenza ma non possiamo non pensare che questa non basti ad assicurare un promettente futuro. Da applaudire sono gli incoraggianti progetti dell'amministrazione e di alcune agenzie educative tesi ad appianare una situazione piuttosto complessa. Questi, se per un versante migliorano l'aspetto strutturale, poco contribuiscono dall'altro ad arricchire il suo strato sociale che invita piuttosto ad una presa di consapevolezza e alla cura della fraternità, all'attenzione all'altro, allo straniero. Tutti ingredienti fondamentali quanto mai necessari e providenziali. Dovremmo forse più pensare che si è più uomini e più cittadini solo insieme all'altro, solo se l'altro è accolto. Il capitale umano è la risorsa fondamentale della città, un elemento economico in controtendenza rispetto all'economia che ci siamo dati, basata su profitti e benessere individuale che mette a rischio il nostro futuro. E i bambini, insieme ai luoghi del loro vivere quotidiano, rappresentano il cuore della città. La città cresce solo se la si costruisce insieme, altrimenti non progredisce. E di questo abbiamo tutti, ciascuno nella sua parte, forte responsabilità.